Il Grande Fratello è ancora lontano, infatti siamo in piena estate, ma nonostante questo si continua a lavorare dietro le quinte per la prossima edizione. E ora si è scoperta una notizia che potrebbe creare delle reazioni contrastanti nel pubblico. C'è chi ne sarebbe felice e chi invece ci resterebbe male, tutto dipende dal modo in cui è seguito questo reality show. A proposito del Grande Fratello, un'altra notizia è uscita fuori nei giorni scorsi. Amedeo Venza ha comunicato i giorni in cui sarà mandato in onda in diretta il GF e soprattutto la data di inizio del programma di Canale 5. Anche quest'anno gli appuntamenti saranno due. Il lunedì e il giovedì. L'inizio è previsto per il 16 settembre. E lo stesso esperto di gossip ha ora sganciato la nuova bomba. Non sappiamo come la prenderà eventualmente Alfonso Signorini, ma Mediaset starebbe prendendo una decisione diversa sul Grande Fratello rispetto a quanto visto finora. Amedeo Venza ha anticipato tutto attraverso un'indiscrezione, riportata nella tarda mattinata del 13 luglio, quando ha pubblicato un Instagram Story. L'influencer ha postato sui social, quest'anno il GF potrebbe durare meno rispetto alle scorse edizioni speriamo. Quindi, l'auspicio di Venza è che i mesi trascorsi dai geffini nella casa più spiata d'Italia siano davvero inferiori rispetto alle attese. Presumibilmente questa scelta è dettata dal fatto che dopo Canale 5 dovrebbe mandare in onda il ritorno di un altro reality, la Talpa. Ovviamente non c'è ancora niente di ufficiale, quindi occorre attendere il comunicato di Mediaset soffermandoci infine sulla Talpa, a condurla dovrebbe esserci diletta Leotta. E si parla già di due concorrenti, l'ex calciatore Nicola Ventola e l'ex uomini e donne Mariano Di Vaio.